Ciao a tutti, prossimo workout sugli addobinali. Modificate gli esercizi che vi vengono più complessi, ma non fermatevi, continuate, andate sempre avanti. Buon allenamento! Allora, primo esercizio possiamo fare squat semplice oppure saltare più in alto portando le ginocchia in alto verso le mani. Tre volte, uno, due, tre, poi vado in plank, ginocchio al gomito, uno, cambio, due, tre, quattro, salta e continua, via! Uno, due, tre, vai giù! Uno, due, tre, quattro, ultimo ciclo, uno, due, tre, vai giù! Uno, due, tre, salto da qui due volte, portare le ginocchia al petto, uno, due, poi salti in plank, porti le ginocchia in fuori, uno e due, di nuovo giù e ginocchia al petto, uno, due, di nuovo plank, vai! Uno, due, ginocchia al petto, uno, due, benissimo, resta giù, schiena neutra, attiva l'addome, battiamo l'andred ogni volta che soffiamo l'aria. e torniamo giù, un'altra volta, e torniamo giù, continuiamo, ogni soffio saliamo, batti forte e vigorosi, ancora continuo, tira indentro la pancia, ultimo, e si riparte, andiamo! Tre salti esplosivi, pronti? Via! Uno, due, tre, uno, due, tre, quattro, vai, 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 vai! Uno, due, tre, giù! Uno, due, tre, quattro, continuo, continuo! Uno, due, tre, giù! Uno, due, tre, quattro, andiamo a terra! Via! Uno, due, e mi porto in plank! Uno, due, via, ginocchia! Uno, due, e mi porto in plank! Salto! Uno, due, e continuo! Uno, due, e vado a terra! Pronti a salire, battendo l'andred, braccia lungo il corpo, uno, due, tre, quattro, cinque, inspiro! Ok? Prendo l'aria, parto! E giù! Via! E giù! Continuo! Inaspiro ed espiro! Ultimo! E salgo su! Faccio un altro giro! Andiamo! Salto bene in alto! Esplosivi, pancia dentro! Via! Uno, due, tre, quattro cambi! Uno, due, tre, quattro, su, 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 alti, alti! Uno, due, tre, quattro cambi! Uno, due, tre, quattro, ultimo! Uno, due, tre, quattro cambi! Uno, due, tre, partiamo da qua! Salto, torno, salto, addominali, uno, due, e di nuovo plank, via, uno, due, ginocchia al petto, uno, due, e vado in plank, piedi indietro, via, uno, due, vado giù. Gambe giù, pronti a partire, col soffio dell'aria, via, e giù, ancora una volta, e giù, un altro, e giù, continua, continua, inspira, batti le braccia vigorose, e stop, benissimo, ci vediamo per il prossimo workout, ciao! Ciao!